Guardate come se lecca ancora i baffi Totino, guardate brutto, Totino, sei il più bello del mondo. Ho messo Totino dentro la macchina perché dobbiamo uscire un attimino e mi sono dimenticato che c'aveva ancora giù le crocchette, non so se si vedono, di guarda ancora come le guarda, che erano destinate alla maremmana e non mi ricordavo di sta cosa. Ho visto Totino che ci sei lanciato a pesce, pelle, vallo, da lì si allungava, sembrava Olivia de Braccio de Ferro. Totino, non si fa così, però se ne mangiate due crocchette, allora è felice, è felicissimo Totino a casa del papi. , no, 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 no.